L'obiettivo è inserire qualità in organico, rendere quest'avellino meno prevedibile. Ecco perché in casa Biancoverde il direttore sportivo Salvatore Di Somma lavora fortemente per Alessio Curcio, calciatore del Foggia in scadenza di contratto con i Satanelli. Il fantasista nella passata stagione ha collezionato la bellezza di 14 reti e 7 assist. Si sta lavorando da diversi giorni con il suo agente Vincenzo Pisagane, lo stesso di Salvatore Aloi che dovrebbe rinnovare il proprio accordo con i Lupi. A quanto pare i Biancoverdi avrebbero sondato un altro calciatore importante, Antonino Di Gaudio, classe 1989 con un passato a Parma e Carpi. In carriera ha indossato anche le maglie di Verona, Spezia e Chievo Verona. Dalla D alla A, 385 presenze e 52 rite all'attivo. Su di lui ci sarebbe anche il Palermo Di Gaudio che è cresciuto nella scuola calcio di Totò Schillaci, era stato avvicinato già nello scorso mese di dicembre. Così come non si perde di vista Claudio Mikoski del Genoa, ma si aspetta il placet del club Ligure. Sul tacquino di Di Somma è finito anche Tommaso Fantacci lo scorso anno in forza alla Juve Stabia. Il calciatore classe 1997 è di proprietà dell'Empoli e nella passata stagione con le Vespe ha collezionato 31 presenze e messo a segno 5 reti. In precedenza ha giocato in Liga Pro anche con Prato e Pistoiese. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, sull'attaccante Emanuele Santaniello si è fondato il Picerno, società con cui il giocatore ha fatto molto bene prima di approdare in Irpinia, realizzando 11 reti. L'attaccante è considerato un autentico idolo dai tifosi del club lucano. L'arrivo di Vincenzo Plescia da Renate potrebbe accelerare l'addio della punta di Gragnano.